Buongiorno a tutti. È stato pubblicato lo scorso 8 luglio il decreto ministeriale numero 25 con cui il Ministero dell'Istruzione ha dato attuazione alle disposizioni del decreto legge 126 2019 che prevedeva e introduceva la nuova figura della cosiddetta col veloce. Ma di cosa si tratta? Lo scopo di questo nuovo istituto finora sconosciuto nell'ordinamento scolastico è quello di ridurre il numero degli incarichi di supplenze e quindi tendente a diminuire il precariato. In sostanza sui posti residui dopo le operazioni ordinarie di immissione in ruolo potranno essere assunti docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi o nelle GAE di altre regioni o di altre province. In sostanza il meccanismo prevede che dopo le operazioni di immissione in ruolo i posti residui verranno pubblicati dagli uffici scolastici regionali in un apposito elenco. Dopodiché i docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari e nelle graduatorie di esaurimento potranno formulare una domanda tramite un'apposita piattaforma che verrà predisposta dal Ministero con cui indicheranno una regione o una provincia diversa rispetto a quella in cui sono inseriti in graduatoria per poter aspirare all'immissione in ruolo sui posti residui in tale regione o in tale provincia. Quindi gli uffici scolastici regionali predisporranno delle specifiche graduatorie inserendovi i docenti che hanno indicato quella regione per le immissioni in ruolo dalla cosiddetta col veloce che verranno graduati con lo stesso punteggio di cui sono in possesso nelle graduatorie di provenienza. Quindi questo meccanismo consentirà sostanzialmente di conferire con un contratto a tempo indeterminato quelle sedi residue dopo le normali immissioni in ruolo che precedentemente venivano assegnate a supplenza annuale. Il decreto ministeriale prevede che in caso di mancata accettazione della proposta di missione in ruolo a seguito alla domanda di col veloce si verrà depennati dalla graduatoria per l'anno scolastico in corso. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.